... Sul trabocco pesce palombo di Fossacesia, finale nazionale del Festival del Brodetto dell'Adriatico, al ristorante Esco Poco di Sera di Barletta, lo chef Francesco Sciusco sugli scudi, il trofeo Nuova La Selva Pesca, davvero una grande emozione. È stata una bella esperienza, veramente una bella esperienza, ma oltre alla giornata di oggi che ci ha regalato tante emozioni, la cosa che ci tengo a particolar modo è ringraziare questi due ragazzi che mi sono al fianco, Antonio De Mattia e Fabio Legori, perché solo grazie a loro siamo riusciti a realizzare questo grande piatto che ci ha portato poi ad avere il primo posto in classifica. A parte il brodetto alla pugliese, il vostro brodetto, qual è stato quello che vi è piaciuto di più? Quello del secondo classificato, quello di Gianpierre, è stato veramente uno dei piatti che ci ha piaciuto in particolar modo. Allora, caro Mimo D'Alessio, grandissimo esponente dell'Accademia Italiana della Cucina, una domanda è doverosa, vorrei sapere qual è la differenza tra il brodetto e la zuppa di pesce, differenza che sicuramente interesserà a tutto il pubblico. Beh, sicuramente, questo ha fatto una bella domanda in realtà, perché in tanti confondono la zuppa con il brodetto. Per farci capire meglio, possiamo dire che è un parallelo con la carne. Quando si fa un brodo di carne, si mette della carne a bollire e la cosa più importante è il brodo che deve uscire. La carne è un elemento di risulta, quando invece si vuole fare il bollito, allora si fa lo stesso simile procedimento, però la parte che più ci interessa rimane la carne e il brodo è un brodo di risulta. La stessa cosa accade nella zuppa e nel brodetto. Nel brodetto è il brodo, quello che è l'elemento più importante del piatto, nella zuppa invece è il pesce. Ora, è chiaro che il procedimento, essendo simile, ha un denominatore comune, che tutti i pesci concorrono a far buono il piatto.